Va bene, d'accordo. Senta Tanzi, non mi rimangio niente di quello che le ho detto. Sono convinto che un poliziotto debba sempre e comunque rispettare la legge. W-21, a tutti gli equipaggi. Abbiamo intercettato la BMW del raffinatore Inizio Viale Marconi. Ripeto, a tutti gli equipaggi. Cosa sta a fare qui? È ancora lei o sbaglio il capo della squadra anticrimina? Se mi permette, dottor Wini, lei è un gran figlio. Basta così, Tanzi. Ora vada, vada. Oh, che vuoi? Presto, scegli. Ma che fai, c'è male? Scegli. Tornagliere. Dagli. Esprimbiate, dagli. Guarda che lì dentro c'è sta una che sta per morire. Non me frega un cazzo. Se non vuoi morire pure te, fila dritto. Stai calma, coraggio. Ma che succede? Che succede? Perché torniamo indietro? Ma che vuoi? Voglio sapere dove stiamo andando. Io ti posso solo dire dove stai andando tu. Al cimitero, stronzo.